e ciao a tutti amici io sono franco versa oggi andiamo a scoprire un nodo particolare in fusion e quindi andiamo a creare una new fusion composition avete visto ho creato un cursore giallo così per voi sarà un po più visibile andiamo a prendere la nostra fusion composition e portarla in timeline magari tolgo il nome e poi andiamo in fusion in fusion eccoci qua andiamo ad attivare un sistema particellare quindi andiamo a mettere un p emitter e poi possiamo mettere subito un p render il nodo che andremo a conoscere oggi premiamo shift barra spaziatrice dopo aver nazionato p emitter e è il nodo p flock questo qui con questo simbolo di tante particelle vicine e adesso andremo a capire perché andiamo a mettere un bel background lo uniamo così a media out e da render scendiamo giù ecco qua andiamo sul p emitter andiamo su style mettiamo blog e sul size control aumentiamo un po la dimensione possiamo anche portarla anche due se desiderate così si vedranno bene i puntini andiamo a 0 cliccando qua e andiamo invece sul controllo per definire un numero di facciamo 4 4 punti abbiamo visto l'altra volta che queste quattro particelle emesse saranno emesse ogni frame quindi attiviamo i keyframe ci spostiamo di un frame sulla time ruler e scriviamo 0 disattiviamo un attimo il p flow premendo qui così non ci sarà se andiamo all'inizio e premiamo play dovremo vedere queste particelle che restano a video per sempre ok è l'unica cosa sull'emitter aumentiamo il live spam per essere sicuri che queste particelle resteranno sempre visibili per tutti i nostri frame quindi adesso andiamo a inserire un po di velocità su questo emettitore quindi su velocity andiamo aumentare un pochino la velocità e avremo un movimento in una data direzione perfetto proviamo a portare un pochino prendendolo così avete visto al centro praticamente la regione oppure andate su regione con l'offset potete spostarlo da qui quindi avremo il percorso così di queste 4 particelle che abbiamo generato adesso andiamo a riattivare il p flow e vi spiego a cosa serve il p flow è un nodo che crea un movimento delle particelle quasi fossero intelligenti e serve per simulare ad esempio non so un gruppo di uccelli un gruppo di farfalle di moscerini cioè il movimento non sarà più regolare ma come funziona andiamo a vedere i comandi beh il primo comando è un random quindi alzando questo inseriremo dei controlli generati random e quindi potremo vederne i risultati ma non conoscendo ancora cosa fa il p flow andiamo a vedere comando per comando cosa succederà alle nostre particelle flow number è il numero di particelle che un'altra particella seguirà quindi se io prendo ad esempio questa particella e scrivo 1 questa particella seguirà una particella se vado a segnare 2 questa particella tenderà a seguire 2 particelle e così via per il momento proviamo a lasciarla 1 follow straight è la forza di una particella di seguirne altre quindi più alto sarà questo valore e più una particella avrà forza di seguire il numero di particelle selezionato attract straight è la forza di muoversi verso vicino una particella quindi non di seguirlo ma di avvicinarsi proprio poi troviamo rappel straight che è sempre una forza ma di allontanarsi quindi una forza che andrà a respingere la nostra particella dal numero di particelle selezionate ed infine abbiamo space che indicherà sul minimo e massimo la distanza minima o massima mantenuta da una particella andiamo a fare un po una prova di questo allora se mettiamo in play così vedete che non succede nulla perché non abbiamo aumentato nessun valore ecco guardate ad esempio cosa succede se impostiamo il flock number a 3 quindi ogni particella seguirà le altre 3 come forza ho messo a 0 e invece ho messo la forza di attrazione a 0 622 e la forza invece di repulsione a 0 276 come vedete lo spazio minimo è 0 massimo è questo qua 004444 se metto in play vedete le vostre particelle che si attraggono e si respingono ora partendo da questi valori minimi possiamo provare diverse soluzioni proviamo ad esempio abbassare a 2 e vedete che il movimento cambia e si sposta ovviamente attenzione che dipenderà anche dalla velocità iniziale e angolo in questo caso l'angolo è 0 perché andrà a sommarsi con il risultato del peak flow quindi abbiamo visto ora fanno hanno questo avvicinamento e allontanamento che dipenderà da questo vedete valore minimo 0 quindi se io aumento loro cambieranno il modo di avvicinarsi e se cambio questo sarà lo spazio minimo lo spazio massimo di allontanamento ecco qua vedete sembrano quasi dei moschini quindi se io invece vado a abbassare la forza di attrazione vedete che la cosa è molto più lenta perché loro tendono a avere meno forza nell'avvicinarsi e continuano a seguirsi uno all'altro perché uno seguirà una particella e sfuggirà da quello che la segue così più abbassiamo e più noteremo questa cosa eccolo qua vedete sembrano quasi lucciole proviamo invece a alzare la forza di riposizione molto alta vediamo cosa succede vedete che adesso sembrano sbattere quando si avvicinano si proprio si respingono eccolo la e questo succede ovviamente a un numero di due in due infatti vedete che sempre due palline rimbalzano fra di loro quindi se noi portiamo a 3 vediamo cosa succede ora vedete che il comportamento è diverso quindi è tutto un gioco di forze e repulsioni che andiamo a regolare quindi se abbassiamo qua saranno tutte molto più vicine più alziamo questo e più si allontaneranno fra loro questa è la forza di seguirsi una con l'altra e quindi ecco qua saranno molto più attaccate quindi se abbassiamo la forza di seguirsi vedete che fanno molta più fatica a seguirsi quindi faranno più strada così creeremo dei gruppi perché avranno molta forza di star vicine e giochiamo con gli altri due quindi forza di attrazione e respingimento se la facciamo uguale si avvicinano e si allontanano con la stessa forza potremmo andare a creare adesso queste particelle sono un numero basso ma se noi andiamo a crearne veramente molte incominciamo a creare veramente un sistema vedete caotico guardate che simpatico è una cosa dove le particelle si comportano in questa maniera di sciami diciamo ecco particolari dipenderà anche poi dalla dimensione della regione se noi andiamo a aumentare la regione quelle particelle che abbiamo generato staranno dentro quella regione eccolo qua vedete e così ancora di più possono sembrare insetti o cose organiche che si muovono ovviamente noi abbiamo bloccato l'emissione qui se invece qui aumentiamo il numero dell'emissione siccome vengono continuamente generate ci troveremo proprio una nuvola di moschini chiamiamoli così a questo possiamo aggiungere anche la turbolenza quindi andare a muoverli ancora di più in questo esempio su P emitter ho messo come regione mesh si attiverà un ingresso dove ho inserito uno shape lo shape è una sfera per esempio come vedete sarà visualizzata qui eccola qua questa è la sfera delle mie particelle generate che vedete posso spostare tutto l'uscita del render delle particelle l'ho inserito in un ambiente 3D quindi riconoscete il merge, il render, la telecamera, lo spotlight che va a illuminare la scena e un testo che è quello di Franco che è estruso da qua sul render andremo a attivare luci e ombre se vogliamo solo luci come desideriamo e ecco cosa otteniamo otteniamo che queste specie di moschine chiamate come volete si muoveranno in un ambiente 3D e quindi come vedete lo si può vedere bene da qua attiviamo che qua luci e ombre stanno muovendosi attorno al mio nome ora sull'emettitore ho aumentato il numero sul primo frame questo sarà sempre 0 e limita la dimensione e vedete che ho proprio idea di uno sciame di qualcosa che si muove attorno al nome Franco guardate regolando p flow con valori di 5 cosa succede e regolando le altre forze bene si formeranno gruppetti vedete di 5 particelle che sembrano quasi fiocchetti si riuniscono e poi proseguono spinte dalla velocità attraendosi allora a gruppi come vedete fra loro bene spero che questo tutorial vi sia piaciuto ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella e noi ci rivediamo al prossimo tutorial ciao 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 ciao